come posso esserle utile lei dovrebbe stabilizzare l'immagine così di piatto si un attimo un momento con calma siamo al suo servizio lei deve fare con tutta calma eccolo qua questo qua va bene perfetto mi sembra perfetto mi sembra proprio un pentolino per il latte e coerentemente mi dice mi dice prendere il latte